Ogni giorno qui in zona stazione, nei pressi del Corso Meridionale, vicino alla stazione Garibaldi, prende vita un inusuale mercato di oggetti rubati, fuori legge e spesso presi direttamente dai contenitori di immondizia, trascurando ogni parametro igienico-sanitario. Un mercato squallido e arrapezzato, uno dei tanti esempi che manda su tutte le furie i commercianti napoletani, che vengono multati, spesso e volentieri, per piccole inadempienze. Se la giustizia fosse uguale per tutti, certe scene non dovrebbero proprio esistere. L'iniziativa della polizia è semplicemente quella di guardarli male per un po' e poi andarsene. Peccato perché la stazione di Napoli è il biglietto d'ingresso per le migliaia di turisti che scelgono il sistema su rotaie per giungere fin qui, nella città del sole e del mare.